Il governo si sbrighi a prendere una decisione sulle riaperture, questa situazione è diventata insostenibile, subito dopo Pasqua le serrande delle attività devono rialzarsi. Parla chiaro Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord, che oggi di fronte alle telecamere di Fano TV ha ribadito il suo pensiero rispetto a quanto dichiarato dal premier Mario Draghi. Credo che sia un errore gravissimo da parte del governo Draghi, intanto perché ormai è più di un anno che il governo Conte prima e il governo Draghi oggi se la prendono sempre con le stesse categorie di imprese che hanno dimostrato peraltro di non essere gli untori, coloro che determinano i contagi. Tant'è vero che sono mesi che queste aziende sono chiuse, alcune non hanno mai aperto, pure i contagi aumentano, anzi aumentano in maniera anche molto elevata. Il che vuol dire che non è da questi comparti che deriva poi l'aumento. E poi mi lasci dire che non è accettabile che ristoranti, palestre, piscine sono soggetti a queste chiusure, quindi non possono lavorare. E poi vediamo assembramenti costanti lungo le vie, le piazze, nelle zone della Movida. Quindi noi chiediamo che si riapra, perché i ristoranti in maniera particolare hanno adottato e stanno adottando tutte le disposizioni previste dai vari decreti governativi e regionali. Ormai il decreto scade il 6, quindi ormai la Pasqua se n'è andata, però chiediamo che subito dopo non si prendano altri provvedimenti di chiusura perché non hanno più senso. C'è la dimostrazione che non hanno senso, perché o si chiude tutto e allora per 20 giorni, 30 giorni si chiude il paese, un po' come abbiamo fatto in Cina l'anno scorso, ma queste chiusure, solo in questi comparti poi, è veramente inaccettabile, la gente non ce la fa più.